Siamo con il direttore Roberto Pantaleo, una vittoria da dedicare però a quest'oggi, una dedica è d'obbligo. Assolutamente, questa vittoria la dedichiamo a Iacobucci che nella nottata di venerdì ha perso il papà, perciò la dedichiamo tutta quanta a lui questa vittoria. Un ragazzo che sicuramente sta dando il suo valido contributo a questa annata dei Nerostellati, un'annata impreziosita dal successo odierno. Adesso sono 47 punti in classifica, possiamo dirlo, adesso si punta il playoff. Beh assolutamente, hai perfettamente ragione, ci sono dei risultati un po' strani come la sconfitta del Paterno, la sconfitta del Francaville. Noi oggi abbiamo fatto una, cioè l'approccio alla partita non è stato dei migliori perché siamo scesi molto molli in mezzo al campo. Invece poi nel secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo creato tante azioni d'ago e penso che alla fine il risultato è giusto così. Una rimonta e un successo ottenuto con carattere prerogativa essenziale per questa squadra? Ma noi siamo una squadra che ha carattere, se noi giochiamo tutti quanti a miglia siamo veramente una buona squadra. Guglielmo Isotti, l'uomo del match, l'uomo che ha dato la vittoria ai Nerostellati, importantissima doppietta nel secondo tempo. Ci serviva un Isotti in più, quest'oggi c'è stato, grande freddezza agli 11 metri e poi a colpire lì dove serviva questa buona estesa nel secondo tempo. Sì, questo è l'importante, ci tengo per iniziare a dedichare tutta la squadra, tutta la società, la vittoria a Rocco e alla sua famiglia per la prematura scomparsa del padre. Per quanto riguarda la partita è stata una partita combattuta dove il primo tempo noi abbiamo sofferto un po', siamo entrati in campo un po' molli come si dice. Al primo tiro abbiamo preso gol, dopodiché il secondo tempo l'abbiamo ribaltata penso con merito. Siete andati anche bene, anche a nostro avviso nel corso del secondo tempo, al di là di una partenza molle come state sostenendo un po' sia tu che il direttore Pantaleo, però nel corso del primo tempo avevate creato anche le premesse per il vantaggio. Sì, sì, ma anche nel primo tempo io ho sbagliato un gol quasi fatto, abbiamo creato altre 3-4 occasioni nitide. Il calcio è questo, poi crei e non fai gol e al primo tiro lo prendi gol. Il secondo tempo siamo rimboccati le mani che abbiamo fatto quello che dovevamo fare in pratica. Da oggi sei in doppia cifra, 10 gol all'attivo per te, 11 con quello in Coppa Italia messo a segno nella trasferta sul campo del paterno. In Coppa, insomma, un'annata sicuramente importante anche per te. Sì, ci tenevo a fare bene perché qui ho trovato un ambiente che mi ha messo a mio agio e quindi torno in doppia cifra dopo, se non sbaglio, 5 anni, quindi è un risultato sicuramente positivo. Domenica trasferta sul campo del Morro d'Oro, siete a 47 punti, ma come detto anche con il direttore Pantaleo, adesso l'obiettivo è quello di centrare la qualificazione ai play-off. Sicuramente da due o tre partite a questa parte abbiamo raggiunto la salvezza e puntiamo ai play-off senza nasconderci. Non sono i risultati delle altre, però l'obiettivo nostro sono i play-off. Ci sono stati anche episodi tipo il fuorigioco ravvisato sul gol di Rossi che vi avrebbe potuto portare in vantaggio in quel momento. Però quello che vorremmo anche sapere, che ci incuriosisce, è anche la reazione a livello mentale della squadra dopo uno svantaggio sopraggiunto quasi improvvisamente, possiamo dire. Questa è la prima partita che riusciamo a rimontare da quando sono qui e andiamo in svantaggio, quindi penso che ci sia stata la consapevolezza e la nostra forza. Ci siamo resi conto delle nostre forze e la partita si poteva concludere anche sul 4-1 perché non mi ha dato un gol regolare, secondo me, oltre a quello di Ignazio. Quindi però va bene così, i tre punti sono arrivati e questo è l'importante. Un gruppo che si sta togliendo davvero grosse soddisfazioni e quello che piace di più sottolineare è proprio la natura di questa squadra, il gruppo stesso. Sì, siamo un gruppo spettacolare, siamo come una famiglia. Mister Naccarella, un K.O. arrivato nella ripresa dopo una prima frazione che aveva visto un Acqua e Savone capace di sbloccare il risultato, poi nel secondo tempo avete ceduto le armi ai nero stellati. Sì, paghiamo i nostri soliti errori. Quando andiamo in vantaggio, specialmente fuori casa, subiamo qualcosa di troppo. Subiamo le avversarie, subiamo il cambio di rotta dell'episodio e invece di cercare di finire l'avversario ci adagiamo e coincidiamo all'avversario metri su metri finché poi non avviene l'episodio che poi sblocca la partita a favore degli altri. Fosse stato il rigoro, fosse stata un'altra cosa, cambiava poco. 30 punti all'attivo per l'Acqua e Savone, quarto anno consecutivo in eccellenza. Rispetto allo scorso anno però la sua squadra ha fatto subito punti nel giro negli andata a differenza dell'anno scorso dove ci fu una rimonta impetuosa nella seconda parte di campionato. Sì, un po' il contrario di quello che è successo lo scorso anno. Adesso dobbiamo concentrarci su questi ultimi 10-12 punti che dobbiamo fare. Non è facile come vedete perché stiamo dilapidando risultati su risultati. Prima al Patriatica in vantaggio abbiamo perso, oggi qui stessa cosa in vantaggio e perdiamo. I ragazzi per quanto si impegnano devono capire che certe situazioni non possono essere buttate via in un campionato che pesano troppo. Venivate da una vittoria netta a spese del Cupello domenica scorsa. Punti salvezza per la matematica salvezza che passeranno dal terreno amico. Sì, soprattutto dal terreno amico ma credo che non possa bastare. Credo che un'impresa fuori da casa dobbiamo farla. Siamo andati vicino due volte, speriamo che la prossima sia quella buona. Però, ripeto, dobbiamo invertire un po' la rotta perché fare questi regali durante l'anno diventa pesante da digerire. Espulsione di Donato, vi ha lasciato in 10 uomini, ne hanno approfittato i nerostellati in quel frangente. Sarà anche una pedina da sostituire nel prossimo match interno di domenica? Sì, sicuramente, ma quelli che sono rimasti fuori sicuramente si faranno trovare pronti. Quando parlo di episodi parlo anche di questa cosa, espulsione chiaramente da evitare. È stato molto ingenuo Nicolas e non è la prima volta che cadiamo in questi tipi di errori. Adesso per domenica chiaramente dobbiamo preparare la partita in maniera diversa e soprattutto cercare di trovare quell'equilibrio che, soprattutto fuori casa, continua a mancarci.